I traghetti rappresentano un asset fondamentale per il turismo, ma ancora una volta questo aspetto è stato sottovalutato. Per molte aree, come quelle del Cilento, i traghetti consentono l'arrivo di tanti turisti e generano un incremento di presenze. A parlare il presidente di Federalberghi, Antonio Elardi, che commenta la mancata attivazione delle linee marittime dirette verso le costiere del Cilento, che danneggia enormemente il turismo salernitano, depotenziando l'offerta turistica dell'intero territorio. Ma non è solo un problema di trasporti via mare, perché i collegamenti e anche via terra sono un caos. Manca una programmazione serie, da ciò si aggiunge l'ineadeguatezza dei trasporti su gomma. Elardi, presidente di Federalberghi Salerno, ha denunciato il caos informativo in cui operano le linee extraurbane di bus Italia dirette a sud. Gli orari sono completamente incomprensibili per turisti e cittadini, ha dichiarato ai nostri microfoni. E' esemplare il caso della linea diretta Pestum Agropoli-Santa Maria di Castellabate-Dacciaroli, per la quale l'azienda pubblica sul proprio sito innumerevoli quadri orari, tutti diversi. E' un anno sicuramente positivo dal punto di vista delle presenze di turismo estero. Molto forte il flusso, molto meno significativo rispetto alle aspettative quello del turismo nazionale. Sicuramente siamo sconcertati e esprimiamo vivo disappunto per la mancata attivazione dei collegamenti marittimi verso le località della costiera cilentana. Questo sta provocando una diminuzione del flusso in quelle località. Molti turisti che pernottavano anche a Salerno amavano utilizzare queste linee per fare delle escursioni, ciò portava comunque flusso o per andare a fare qualche giorno di pernottamento in quelle zone. Siamo rammaricati, sconcertati, che non sia stato possibile attivarle, anche perché parliamo di un territorio che complessivamente ha dei deficit di trasporto. Anche perché l'alternativa alle vie del mare sarebbe il viaggiare su ferro piuttosto che su strada, ma nel cilento diventa un po' tutto più difficile? Sicuramente diventa tutto più difficile. Vi sono delle località raggiungibili tramite ferro, Agropoli, poi quelle più a sud, Palinuro, ma vi sono anche delle località, pensiamo a Sant'America, Serrabate, Arciaroli, che sono raggiungibili unicamente tramite trasporti su gomma. Vi è un caos informativo delle linee di trasporto pubblico che desideriamo denunciare con fermezza. Collegandosi al sito di Bus Italia, ad esempio per conoscere gli orari della linea 34, che parte da Salerno e arriva da Acciaroli, fermandosi ad Agropoli, a Pestum, a Sant'America di Casellabate, escono almeno 10 orari diversi, per cui vi è sconcerto tra i visitatori su quali siano gli orari giusti. Un commento da non poter fare è sicuramente quello di dire oggi è mancata una programmazione, perché oggi si lamentano questi disservizi, perché oggi non ci sono tante cose, quando poi si sapeva cosa sarebbe stata l'estate 2023. C'è oggettivamente un deficit di programmazione. Noi lo stiamo dicendo, stiamo svolgendo il nostro ruolo di associazione di categoria, abbiamo chiesto programmazione sulle tratte che saranno attivate all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, ci è stato risposto in maniera sorprendente che è troppo presto. Cari signori della GESAC, siete sicuramente una società affermatissima, qualificatissima, ma i flussi turistici si programmano a 24 mesi. Non ci può essere risposto che nell'estate del 2023 è troppo presto per conoscere quali linee saranno attivate all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano nel 2024. Ci sembra oggettivamente una presa in giro. Lo stiamo dicendo su tutti gli aspetti più minuti della vita turistica di questa comunità nella consapevolezza che il turismo è l'ultima occasione produttiva del nostro territorio. Svolgiamo il nostro ruolo. Ci auguriamo che ci siano le istituzioni che possano rispondere effettivamente al nostro appello. Programmiamo oggi l'estate 2024 perché non abbiamo di nuovo a lamentarci del mare sporco a Salerno-Città, dell'assenza dell'aeroporto, delle carenze informative sui trasporti, delle strade dissestate. È davvero inconcepibile, è una situazione che non vorremmo replicare.